Una colazione speciale tutti insieme sul lungomare di Salerno con l'obiettivo di servire ed unire nel rituale quotidiano della prima colazione 2500 persone. E' la sfida che la centrale del latte di Salerno ha deciso di lanciare con l'evento festa del latte, tutti insieme per la colazione da record, per celebrare il suo novantesimo compleanno e la giornata mondiale del latte. L'azienda di Forni, che da quasi un secolo entra nelle case dei salernitani con il suo latte e non solo, invita a fare colazione tutti insieme sul lungomare Trieste di Salerno sabato 1 giugno, a partire dalle ore 9 fino alle ore 14. L'evento, patrocinato dalla regione Campania e dal comune di Salerno, è stato presentato stamani dai vertici dell'azienda nella sala Via Latte della centrale del latte di Salerno. Quella di sabato 1 giugno sarà una giornata di festa e dallo stesso tempo per i vertici della centrale del latte, con l'amministratore delegato Giuseppe Mastrolia ed il direttore generale Giorgio Criscuolo, l'occasione giusta per consegnare gli attestati di riconoscimento ai dipendenti, ai concessionari, agli allevatori della centrale del latte e per premiare i vincitori del concorso a premi 90 anni di regali, una fedele consumatrice che da oltre 70 anni consuma il latte della centrale ed un punto vendita storico dell'azienda. Una grande festa nel tratto pedonale del lungomare, da Piazza della Concordia alla Camera di Commercio, una grande tavolata dove sarà servita una prima colazione a base di latte fresco, caffè, cornetti e frutta fresca, ma anche tanti stand con tanti partner, laboratori creativi, area fitness e sport. In un'area recintata, sicura, tranquilla, certificata, abbiamo un'area di circa 200 metri quadri, con 18 tavolate, ai quali, grazie alla collaborazione dell'Istituto Virtuoso, del Giovanni XXIII, ci sarà serviti da parte dei ragazzi questa colazione. E non si può che festeggiare un compleanno ai 90 anni della centrale del latte di Salerno con un nuovo prodotto, presto sul mercato ci sarà zero? Sì, ci sarà zero, che è un latte speciale nella sua specialità, già il latte del latte usato è un latte speciale, adesso lo faremo senza grassi completamente, quindi sarà un prodotto innovativo, come gran parte dei nostri prodotti ci stiamo studiando, e quindi sarà una delle novità del nuovo anno. Grazie a tutti.